ragazze allora nuovo video what's in my shower ovvero cosa c'è nella mia doccia e questo volevo farlo da tanto questo video sperando che riesca bene perché lo stavo registrando prima e qualcuno mi ha interrotta vabbè dettagli niente ora vi giro la telecamera e vi faccio vedere cosa c'è la mia doccia sempre che non sia in pessime condizioni prima controllo poi riprendo ok a dopo allora ecco c'è qua questa è la mia doccia come potete ben vedere questi sono dei appunto delle spazzole per lavarmi la schiena ovvio delle spugne spugne lavaschina una per lavarmi invece vabbè tutte e due sono poi lì c'è uno scrub aspettate dentro uno scrub della geomar quello bagnoschiuma sempre geomar idratante rassodante e via discorrendo poi da questa parte abbiamo il bagnoschiuma della vidal che è assai buono della argan o lucciotella non so cosa sia presa sapori profumi poi il pantene pantene non deve mai mancare ed è questo qui questo lo vedete anche voi che era mai è quasi terminato antiforfora e poi questo che è di mia donna questa persona che sta per terminare della frutti scarier antiforfora e l'aloe vera credo che sia buono ne vedea comunque per capire il normale e ce l'ho presso tendente al crespo si secco non so come dire comunque vabbè questi sono appunto tutti i bagnoschiuma no shampoo più balsamo pantene provine e mi stanno facendo un botto ragazzi non avete idea poi questi sono appunto vi dicevo sono è un bagnoschiuma buonissimo della vidal ora ve lo faccio vedere perché non so voi di rimettermi a farvelo rivedere comunque eccolo qua questo è vidal vedete ecco qua già vidal ok il formato non mi ricordo quant'è però vi assicuro che è lo stesso di quando vi ve lo recensisco di quello che ve lo recensisco quasi sempre in ogni mio video prodotti determinati via dicendo eccetera eccetera comunque questa è tutta la mia doccia quello che c'è nella mia doccia questo è una spugna microfibra di quello che utilizzo per struccarmi basta non c'è altro non utilizzo molti prodotti io di solito utilizzo ben poco e nulla perché a volte quando sono stanca stufa ci sta che mi utilizzo un sacco di prodotti però quando voglio lavarmi solo la testa o anche il corpo utilizzo il bagnoschiuma o lo scrub che sta di là o addirittura solamente il bagnoschiuma dipende quanto voglia di coccolarmi o solo farmi una doccia di fretta e furia per essere pulita profumata e in ordine ossia decente ok e nulla ragazzi questo è quanto questa è la mia doccia e basta a presto ragazzi un bacio se vi è piaciuto il video appunto sfolliciate fatemi sapere con un commento qua sotto e attivate la campanella se vi piace questo canale a presto ciao